Venerdì 8 dicembre, immacolata concezione della Beata Vergine Maria. È il 342esimo giorno, dall'inizio dell'anno ne mancano 23 al termine. Il sole sorge alle 7.37 e tramonta alle 16.28. La luna si leva alle 22.18 e tramonta alle 11.42. Il bailo veneziano a Costantinopoli viene convocato dal Gran Vizir. L'accoglienza è quella che il veneziano si aspettava, una dichiarazione di guerra e l'invito a lasciare la capitale turca entro 20 giorni. Arriva il Natale! Treviso si riempie di luci, colori, sapori, musica e tante idee per i vostri regali. L'Associazione Artigiani e Commercianti per Borgo e Via Canova vi aspetta alla mostra a mercato dell'artigianato creativo natalizio nelle domeniche 10 e 17 dicembre. Le previsioni per domani. Inizialmente nuvoloso, poi probabili schierite a partire da ovest con tratti soleggiati nel pomeriggio. Nella notte e fino al mattino possibili residue debolissime nevicate sulle zone montane e probabili deboli fenomeni in pianura, specie sui settori più orientali e meridionali. Nel corso del pomeriggio esaurimento delle precipitazioni ovunque. Nel corso del pomeriggio esaurimento delle precipitazioni ovunque.